Ciao creatura, io sono Eka di Esprendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai, A-S-M-A. Questa sera volevo fare una sessione di suoni. Come primo trigger ho il mio controller con la quale gioco al gioco delle Tartaloo Ninja PC. È troppo bello il mio controller con tutti i teschi, nero, rosso, bianco. L'ho messo da teschio qui e l'ho preso su Amazon. Tra l'altro ho uno steaming toy dentro la mia borsa dove c'è anche questo che è bellissimo e super bello. Rilassante da toccare, il suono, tutto. Questa sia la parte più bella del gioco, usare questo monopolino qui. Che di solito è quella direzionale, no? Sia per andare avanti e indietro sia anche per guardare il suono o per la visuale. Di solito nei giochi, quello delle Tartaloo Ninja no, perché è tipo, è presente i giochi quelli, cioè proprio quello. Quelli delle salagiochi di tanto tempo fa è esattamente quello. Puoi solo andare su giù, saltare e fare le mosse ninja. Non puoi fare chissà cosa. E' molto bello. Gioco con il mio amico Marco. Che sicuramente non è sicuro. Ma forse, diciamo, guardando questo video di solito già Marco non vedo l'ora di giocare ancora con te, che ti giochi perché è molto rilassante. Tranne Overcooked perché Overcooked è proprio da bestemmia, cioè veramente il gioco tipo più stressante dell'universo. Però Stardew Valley è molto rilassante. E quello si gioca con la tastiera. Mi piacerebbe giocare a Stardew Valley con il controller. Non credo si possa. Con il controller mi trovo molto meglio a giocare. Anche se riesco a giocare tranquillamente anche con la tastiera. Però proprio con il controller. Più comodo e con la tastiera è tutto così ingoppito. Non lo so. Allora. Non ho una sedia da gaming. Ho una sedia normalissima, comoda, giusta per stare sulla scrivania. Un giorno quando diventerò ricca e famosa me la comprerò. A parte gli scherzi potrei comprarla anche adesso, ma oggettivamente non ci sta nella stanza. Perché qui sembra che ci sia tipo uno spazio infinito. In realtà la stanza è tipo grande così, una scatola. E quindi niente. Per adesso facciamoci andare bene così. Più comodi si vedrà. Questo è uno dei miei insumi preferiti che ho usato anche. Non so se il video, non so se ti sto per fare lo spoiler. Quindi non dirò nulla. L'ho usato per un personaggio con cui ho fatto un roleplay ASMR che ho risotto troppo facendolo. È stato tipo divertentissimo. Non devo ancora editarlo. Perché lo stesso giorno in cui l'ho cambiato solo ombretto, ho tenuto lo stesso make up, la stessa maglia. che, spoiler, è del mio pigiama. Però non mi sta male questo volume, devo dire. Non sembra neanche io. Sì, ho riso tantissimo facendo quel video. Non ho chiesto l'ora di editarlo e di fartelo vedere, creatura. Perché, cioè, veramente... Non ho scelto di fare... Cioè, non sto prendendo in giro una persona. Sto facendo... In generale, infatti, ha trenta accenti. Mi fa ridere anche per quella. E... Prende un po' tutte le persone che ho visto nel web. E... È un agglomerato, appunto, di influencer, di gente un po' così stupidina. Ehm... Nel web ho fatto un mix su uno di tutte le cose. Non so se te l'ha detto. Mi piace troppo perché io sento questi dire... Quella è aperta. Parlano con la è aperta e mi fa troppo ridere. Magari è l'accento giusto. Perché non ho mai studiato dizione. Quindi non so quale sia l'accento giusto. Però... Quando parlano con la è aperta mi fa troppo ridere. È troppo... Divertente per me. Divertente sarebbe. Credo che in un certo momento abbia anche tolto le... Si leve così quando parlavo nel video. Ci ho fatto un gasotto di dialetti. Mi sono troppo divertita. Beh anche il mouse fa un bel suono eh. Ho bocciato un video che ho fatto in precedenza. Volevo fare un video dove leggevo questo libro qua. Che sono i succhi a cervelli. Però non ce la faccio a leggerlo in un video unico. Vierrebbe troppo lungo. E leggevo troppo veloce per starci dentro. E quindi ho detto vabbè fai niente. Penso che a questo punto lo leggerò. E poi ti farò un riassunto. Te lo racconto. Com'è adesso ti sto raccontando queste cose. Mi piace l'idea. Di leggere dei libretti per ragazzi. Specialmente questi or. Mi piacerebbero anche i piccoli brividi. Però sono molto più grandi. Quindi mi ci vuole più tempo. Devo trovare altri. Questo qua è mio. Quando ero piccolo. Infatti c'è ancora le lire. Ho comprato a 9500 lire. E non me lo ricordo più. Perché l'ho letto tanti anni fa. L'ho trovato tipo in cantina. E appunto mi piacerebbe rileggerlo. E poi raccontartelo. E trovare altri libri. Così semplici. Piccolini. Da leggere così. In un pomeriggio. In una giornata. Appena trovo un attimo di tempo. E poi raccontarti la storia. In un video. E secondo me potrebbe essere rilassante. Specie perché sono libri per ragazzi. Quindi non sono chissà cosa. Di horror. Però allo stesso tempo. Sono originali. Perché sono libri di tempo fa. Quindi. C'è meno probabilità che tu li conosca. Perché adesso tutti conoscono le stesse cose. Perché magari vanno di moda. Questi non vanno di moda. Quindi. I creepers. Chi è che li riceveva? I creepers. Mille anni fa. Da bambina. Avevo anche un altro libro. Mi piaceva tantissimo. L'ho perso. Mi si piace un sacco averlo perso. Perché è introvabile. Nel senso che non l'ho più visto. Da nessuna parte. Neanche se lo fai a comprare online. Non lo si trova. Cioè. Esiste. Ho visto che esiste. Perché sai. C'è quella teoria. Dei multiversi. Cioè tipo. Che puoi switchare. Da un multiverso all'altro. E può capitare che. Alcune persone. Abbiano un ricordo di una cosa. E altri. Che sono. Di un altro multiverso. Hanno altri ricordi. Tipo. Io mi ricordo delle cose. Tempo fa. Altre persone. Si ricordavano. Adesso. Non trovo più nessuno. Che si ricorda di questa cosa. O di alcune cose. E quindi. Cerco le persone. Del mio multiverso. Questo. Sostanzialmente. Vabbè. Però. A parte gli scherzi. Avevo questo libro. Di. Parsellette. Schifose. Dove. Praticamente. Eh. C'erano degli adesivi. Puzzolenti. E poi. C'era qui. Eh. Disegnato. In ogni pagina. In ogni pagina. C'era disegnato. Un uomino. Che. Eh. Facendo. Così. Ci vedeva. Un'animazione. E c'era un tizio. Che praticamente. Inchiattiva. Per sbaglio. Una mosca. E poi. Vomitava. Era. Credo. Per. Bambini maschi. Con libretto. Non lo so. Era verde. Mi pare. E aveva appunto. Tutte queste parzellette. Schifose. C'era tipo. Cos'è quella cosa. Che. Traspare. È invisibile. Però. Odora di carota. E c'era tipo. La scureggia di coniglio. Una cosa del genere. Cioè. Non facevano ridere. Però. A me piacevano. E. Oppure. C'erano. Creepy. Ehm. Con la nonna morta. Così. Così. Va. Tutte così. Tipo. Black humor. Per bambini. E. Cos'è quella cosa. Che. Va. Tipo. A cento all'ora. Bianca. Rossa. Ed era tipo. Un coniglio. Un frullatore. Tutte cose così. Adesso questa. Non so se me la sono. Inventata io. Al momento. Però. Era. Era. Troppo bello. E mi dispiace un sacco. Mi dispiace un sacco. Ave l'ho perso. Perché io me lo. Leggevo. Me lo rileggevo. Me lo rileggevo. Me lo rileggevo. Sempre. 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 Mi piaceva tanto. Mi ricordo anche l'odore. Che aveva. Che era. In teoria. Un odore. Schifoso. Ma in realtà. Non era schifoso. Era un finto odore. Schifoso. Questo. E quello lì. Mi piacerebbe tantissimo. Rioverlo. Avevo. Se trovo la copertina. Te la metto qui. In fase di editing. Così magari. Se mi dici. Oh cavolo. Io ce l'ho a casa. È mio adesso. Adesso è mio. Quando vorrei rioverlo. C'erano ancora. Tutti gli adesivi su. Sicuramente. Mia mamma. L'ha buttato via. Perché. Buttato via. Tipo. Un sacco di mie cose. E. E. Di sicuro. Se l'ha trovato qualcuno. Qualche mercatino. Ci ha fatto. Grandi soldi. Perché era. Perfetto. Con ancora gli adesivi. Intatti. Tra l'altro. Questa cosa. Mi ha portato a. Un ricordo. Quegli adesivi. Perfumati. Che. Vendevano. In cartoleria. Che c'era. Tipo. In base. All. All'adesivo. C'era la profumazione. Che tu. Li grattavi. Con le unghie. Così. E li annusavi. Erano. Tipo. Una cosa. Bellissima. C'era. Io avevo. I popcorn. E che se li grattavi. Sapevo. Poi. Avevo. Il distributore. Di. Come da masticare. Quelle tonde. Che. Se grattavi. Aveva. Proprio. La profumazione. Di quelle. Come da masticare. Che. Sono. Di zucchero. E. Quel particolare. Aroma. Che hanno. Sono. Quelle. Come da masticare. Tonde. Colorate. Che dentro. Sono. Bianche. Che. tu le mastichi, il gusto ti resta tipo per 5 secondi, poi diventano anche tutte troppo rigide, però una volta ci piacevano tanto, e c'era quello, e poi avevo qualcosa al cioccolato, se non ricordo male, ma non ricordo se era una torta o qualcos'altro, che belli che erano quegli adesivi, non li fanno più, quelli mi piacevano un sacco, poi non so, creatura, altri ricordi, allora la cosa che chiedo spesso per sapere se sei del mio uomo o il diverso, tu, creatura, ti ricordi quei personaggini che stavano al mattino in tv su Rai 2, se non sbaglio, era comunque sulla Rai, non so se era Rai 2 o Rai 3 o Rai 1, prima del meteo, no, prima del, sì, per mattino presto, in alto, a sinistro, a destra, non mi ricordo, c'era scritto Rai, e poi c'erano questi omini stilizzati, l'omino col cappello, mi pare, verde, e la signorina col vestito rosa, non mi ricordo se erano colorati, però adesso sono nel dubbio, perché li ho cercati e non li trovo da nessuna parte, non so come cercarli, come chiamarli, li ho cercato con qualsiasi parola e non trovo da nessuna parte, né foto, né niente, l'unica cosa che ho trovato, un vecchio forum, un vecchio forum, o Google Ads, quelle cose lì, e ho trovato che qualcuno come me li stava cercando e cercava di, e chiedeva se qualcuno si ricordava di questi, e non ero io, e praticamente erano degli omini che ballavano, così tipo, e poi ci si giravano, e si giravano di schiena, e facevano tutti così, e ballavano, e non erano totalmente inutili, ma stavano lì sopra al logo della Rai, e ballavano, e stavano lì per tot secondi, non lo so, non so di cosa fossero, di qualche programma, o del meteo prima, non lo so, quello che dava il segnale orario, non lo so, però mi ricordo che erano al mattino presto, sulla Rai, e erano questi omini, stilizzati, un uomo e una donna, che ballavano, stilizzati, omini bianchi, cioè, con il disegno stilizzato color bianco, non sono sicura che avessero i vestiti colorati, ma sono sicura che erano bianchi, e ballavano così, e poi giravano, poi facevano così, nessuno si ricorda di loro, solo io, sto cercando qualcuno del mio multiverso che se li ricorda, però pare che sia davvero difficile trovare uno, e non ditemi se mi ricordo che se magari non è vero, perché non voglio che mi prendete in giro, se non ti ricordo, non ti ricordi, basta, però mi piacerebbe tanto trovare, comunque oggi mi metterò a cercarli, oggi mi metterò a cercarli, perché mi ho tornato a sto pallino di cercarli, e vorrei tanto che ci fosse un video dove poterli rivedere, perché io mi ipnotizzavo davanti a questi omini che ballavano, erano troppo carini, lo so perché mi piacessero così tanto, però è strano che nessuno se ne ricordi, quasi quasi mi era venuto un dubbio, pensavo che me li avevo immaginati io, e che non esistessero, però poi ho trovato nel forum questo tizio, questa tizio, non so, che li cercava, e quindi da loro non solo non può essere frutto della mia immaginazione se qualcun altro li sta cercando, perché non possiamo aver pensato, immaginato, entrambi la stessa cosa, strano, no? E quindi niente, io ti lascio con questo dilemma, e mi piacerebbe però potremmo pensare altre cose, ti ricordi questo, ti ricordo di quest'altro? Questo video è stato improvvisato perché appunto in realtà volevo leggere il libro, però poi ho visto che non ce l'ho fatto, ho detto vabbè improvviso un video, racconto qualcosa, faccio qualche trigger, spero che ti abbia fatto comunque rilassare, sto cercando di parlare lentamente, però è difficile perché io quando inizio a parlare devo raccontarti tante cose, ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura!